Vi sarà dato il centuplo. 19 settembre 1976. Figli di Letti, siate benedetti. Voi avete fatto come quegli operai del Vangelo che, andati al servizio del loro padrone, sono passati, dopo averlo compiuto, a ricevere ciascuno la propria mercede. E che cosa fate nelle vostre case e nei vostri paesi? Non andate svolgendo quelle opere che portano il mio marchio, il nome di Maria o il nome del mio Gesù. Ed ora siete qui a ricevere, con la parola di incoraggiamento, un segno di ricompensa. Non posso né promettervi né darvi un premio definitivo. Quello sarà alla fine della vostra vita e dei secoli. Io però, come Signora della Mercede, vi prometto che nessuno di voi che avrà, nel nome di Gesù e mio, offerto un sacrificio anche piccolo o promosso un'opera, o vissuto con onore, andrà senza ricompensa. Vi sarà dato il centuplo, e in eredità la vita eterna. Agite sempre con retta intenzione, cercando la gloria di Dio. Agite per amore, perché è soltanto l'amore che dà pregio alle opere. Non pensate che il Signore voglia da voi cose grandiose, se ne volesse, vi preparerebbe con tante umiliazioni per farvi capire che siete nulla, e che è soltanto Lui che agisce nelle sue creature. Prendetevi le responsabilità del momento. Siate vere testimonianze del Dio vivente, se volete che le vostre opere servano a portare le anime a Dio. Da soli non potete nulla. Con Gesù e con me potete tutto, purché vi lasciate guidare. Volete mettervi incordata con noi? Non avete che da essere docili, noi facciamo tutto, ed arrivate al cielo carichi di meriti, mentre di tutto avrete un premio. Ci furono alcuni operai che si lamentarono col padrone, perché gli ultimi ricevettero la stessa moneta dei primi. Voi non fate confronti. Sappiate di essere amati e che sarete giustamente ricompensati. Non misurate le cose di Dio col metro umano. Guardate in alto, e la carità, la bontà e la generosità stabiliscano fra di voi un legame solido, sincero, e, vorrei dirvi, eterno, perché non devono finire qui i vostri gruppi di preghiera. Devono continuare nel cielo, con Padre Pio che li ha iniziati e con tutti coloro che hanno guidato, attraverso la parola ispirata, la loro fioritura, e il loro cammino spirituale. Vi benedico tutti ad uno ad uno secondo la missione di ciascuno. Lavorate e pregate, sia oralmente che mentalmente, e se avrete la fortuna di poter unire sofferenze e sacrifici al lavoro e alla preghiera. Ringraziate doppiamente il Signore, perché doppia sarà la ricompensa. Arrivederci, figli.